Io sono nipote di Coloni venuti dal Veneto nell'Agro Pontino, quindi sono cresciuta sentendo parlare delle loro origini continuamente. Un giorno, mentre passeggiavo con mia nonna a Villa Fogliano, guardando quel favoloso panorama, cominciò a tornare indietro con la memoria e mentre mi raccontava la sua infanzia e le sue difficoltà di vita, vedevo una luce brillare nei suoi occhi. Era come se fosse tornata bambina. La immaginavo nelle campagne con i suoi genitori che faticosamente coltivava questa terra, nuova e ancora troppo poco ospitale, e che percorreva circa 3 km a piedi o in bicicletta a soli 6 anni, che poi diventarono 10 quando cominciò a frequentare le scuole medie e superiori. Raggiungeva il risultato magistrale ogni mattina, sia con il sole, la pioggia o il freddo, e lei andava avanti senza esitazione. Ho mirato la sua tenacia e la sua volontà di raggiungere un sogno, diventare insegnante. Lei ci è riuscita, chissà se riuscirò a realizzare i miei sogni, potrà questa città offrirmi un futuro?